vi siete mai domandate qual è il modo giusto per applicare il bronzer ecco cinque semplici regole per avere una bronzatura perfetta 1 scegli un buon bronzer scegli ne uno setoso alla stesura e possibilmente con un filtro di protezione solare come il mio 2 usa un pennello kabuki 3 elimina la polvere in eccesso 4 stendi la terra immaginando di disegnare un 3 in questo modo il bronzer andrà ad esaltare le zone del tuo viso che hanno più bisogno di colore mettendo in risalto i punti che normalmente sono più esposti al sole spesso succede che quando ci sia bronza il viso possa avere quell'effetto un po macchia nera grazie al bronzer possiamo ridare la tridimensionalità al viso mi raccomando non dimenticate il collo perché se rimane bianco non è bello da vedere 5 dai il blush sulle guance a me piace molto usare i toni del rosa o del corallo finito qui ricorda però che l'importante è sorridere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti